Direttore, si parte dai primi 20 minuti della sfida di domenica scorsa a Catania? Si parte dai primi 20 minuti e sicuramente sono stati molto positivi. La squadra ha giocato con personalità, con voglia, con la determinazione giusta. Sicuramente si deve partire da quello e proseguire a fare un po' meglio, soprattutto nel secondo tempo. L'ultima mezz'ora abbiamo sofferto tanto e probabilmente potevamo soffrire di meno. Però la squadra ha fatto un grandissimo campionato, siamo tutti molto molto contenti. Andiamo a giocarcela serenamente, sapendo che il Catania è una grande squadra, è una squadra che ha speso tanti soldi, è una squadra che ha delle grandissime individualità. Anche loro trovano sicuramente dei giocatori, come dicevate giustamente voi, che domenica non c'erano. Speriamo sia una bella giornata di sport, con magari la ciliegina sulla torta per noi. Essere appagati ai play-off sarebbe sicuramente una brutta notizia per i singoli, perché io penso che un gruppo non possa essere appagato, soprattutto dopo aver fatto un grandissimo lavoro, una grandissima stagione come abbiamo fatto noi. Quindi le motivazioni sono alte. Se fossimo stati appagati sicuramente quei 25-30 minuti di domenica iniziali non li avremmo fatti. Invece veramente c'è stata una grande prova di carattere, di determinazione, come ho detto prima. E quando c'è il carattere della determinazione significa che l'appagamento non esiste.